ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato alle vostre collezioni le vostre collezioni di orologi che poi sarebbe il fulcro centrale di tutto il canale no gli orologi non l'orologeria è state ben attenti non è che qua si disquisisce di alti sistemi di orologeria di tecnica di orologi parliamo orologi semplici oggetti quotidiani che noi amiamo indossare ma soprattutto possedere perché se fosse solamente l'indossare sarebbe assurdo avere 20 30 orologi no come fai ad indossarli non basta quasi una vita esageriamo proprio il possesso la voglia di collezionarli di averli lì presenti e di poter decidere in quel dato momento cosa hai voglia di indossare proprio questo che poi anche un po spupazzarli no assaggiarli leccarli quasi quasi no un po esagerato però qualcuno qualche questa perversione potrebbe avercela non io detto questo come partecipare lo sapete fate un bel video in orizzontale un sette minuti belli spigliati lo caricate su itransfer.com e poi mi mandate il link io lo scarico lo metto in una cartella e poi li guardiamo cosa che andremo a fare a breve ma prima vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo oryx big crown pointer date con il quadrante blu edizione limitata per l'italia mare nostrum veniva denominata non esiste più non c'è più barapponsiponsipu non lo prendete più bello in questo caso io ho il centurino in squalo naboccato cioè è praticamente scamosciato con queste impunture laterali color oro bronzo che riprendono il quadrante il la cassa che è in bronzo è veramente una copiata vincente orologio che così in questa configurazione mi riempie di soddisfazione e di gioia sempre eterna adesso barra spaziatrice lì pronta a subire colpi del destino il destino è rappresentato da voi che mandate il video e siete sempre un'incognita quindi bisogna stare un attimino attenti indice fuoco buonasera a tutta community buonasera davide ecco ben ritrovati a tutti quanti ok partiamo stasera con la nostra raffigna orologi allora che poi orologi due ne ho non è che niente allora il primo che ti voglio far vedere è questo orologio che ha più di 40 anni forse anche 45 e di un mio fratello carissimo che ormai non c'è più che era tra l'altro più piccolo di me purtroppo è morto spiace vabbè ma è che te lo dico a fare niente questo orologio pensa che dopo la benemerita età di più di 40 anni io lo carico e funziona e ti farò vedere fra qualche minuto che funziona ancora fra qualche minuto l'ho aperto col mio coltellazzo mamma mia c'è scritto una mazza sul movimento però ti dirò guarda gli ho dato due cariche è ripartito non so cosa sia mai revisionato mai portato in officina non lo so sarà miracolato c'è ora l'anima ma come l'officina di chi gli è morto ma funziona sempre incredibile a comunque a proposito è tac c'è uno dei più grandi film di robert denier bravo per non passare poi a questo qua facciamo anche una rassegna cinematografica bravo il mio ultimo arrivato è questo qui cos'è è uno swiss così si vede meglio alpine alpine military ha un movimento ronda ma che fa fa la ronda no lui gira controlla tutto vede si vede un po in giro che che razza di ficchette di orologi ci sono e appunto mi è piaciuto ma la domanda era questa qua mentre riguardo questo orologio io l'ho preso da un sito di endover se non ricordo male che è in olanda e dove se non mi sbaglio in germania e costava meno di amazon perchè la spedizione era gratis mentre su amazon costava però notato su amazon che sto orologio è come la borsa ogni giorno sale e scende il prezzo un giorno 125 più 20 di spedizione un altro giorno 145 15 di spedizione come si fa oggi a 195 di spedizione niente non capisco il motivo cioè non è che c'è da capire quando i rivenditori mettono su amazon un determinato oggetto accettano nelle clausole del marketplace che ci sia una certa fluttuazione di prezzi a seconda della richiesta a seconda del momento non comandano nemmeno loro non comanda nemmeno il venditore c'è questo range nel quale possono metterlo a x a x più 10 x più 20 a seconda delle richieste a seconda del periodo a seconda se uno disposto ad accettare uno sconto sul durante black friday per esempio no e variano variano così non è che c'è un omino che sta lì dietro a cambiare il prezzo ogni giorno è in automatico sono gli algoritmi di amazon oggi mi è piaciuto simpatico non ha le cosce però vabbè che ci vuoi fare non si può avere tutto dalla vita ragazzi e niente adesso passo al prossimo che è una cosa questa è un miracolo intanto ti faccio vedere l'altro dei più grandi concerti degli essi di sé letti block questo orologio qua questo orologio guardo di prima era lì fermo da una cifra guarda gli do è quello di prima due tre ricariche e questo parte l'ho aperto prima col mio mega col tallazzo da guerra quello di prima che usavo nella legione straniera e straniera e vabbè quel che l'è perché ragazzi io dico sempre un motto che ho imparato in francia libertà di te sommelier guarda e funziona e gira ti giuro è 40 45 anni era di mio fratello che non c'è più ma prima e tu c'è qualcosa di sbagliato questo parte magari va avanti 45 un attimo avanti perché chietto un po sempre quello di prima questo un grande altro mito iron man chi non conosce iron man è l'iron tyson goldrake per segnalarvi un sito dove praticamente io ultimamente ho cercato di acquistare un rado mi sembrava strano perché costava poco invece del rado rado fc k7 mi è arrivato questo cazzo è una radio vintage falso vintage falso e siccome vendevano anche degli orange bambino detto no è meglio di no perché se mi arriva un bambino poi sono a cazzi e allora niente ho optato però anche a vedere vedevano un gigiole curte ho detto cioè allora bambino no gigiole curte non vorrei che mi arriva un nano corto ma dal tutto rispetto che ho per le persone bassa statura è lasciato perdere in attesa di comprare quello che è il mio desiderio più forte cioè un omega sea master niente su qua mi guardo goldrake ciao carissimo grazie grazie mille sei più grande anche a me le donne mi dicono che sono un grande ma non si riferiscono a me in attesa ok ciao buonasera a tutti grande comune del grande davide cecchini che io mi sa che lo soprannumerò lo soprannumerò in qualche altra maniera non puoi però spero che non si offenda ok ciao buonasera ciao ciao ecco l'ultima cosa ragazzi devo precisare ok tu mi hai dato dal fuori di testa grande sì perfetto mi hai dato il milanese imbruttito 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 di brutto ma in realtà io sono siciliano di un paesino sul cucuzzo della montagna che si chiama erice un antico paese dove ogni anno si ritrovano tutti i più sciroppati del mondo cioè gli scienziati a fare festa ok e tutto qui dai sono un milanese l'adozione siciliano tac ciao grande grande davide grande e vabbè stai buono ok ciao 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 sono basito senza parole fa piacere avere anche questi personaggi nella community che seguono il canale e danno un po di colore no magari si è dimenticato di prendere la medicina prima di fare il video devi prendere la medicina ogni dottore il dottore ti ha detto di prendere la medicina quelle pilloline le devi prendere no ingurgitare e poi dopo ti calmano ti rilassano hai capito e così puoi continuare a vivere normalmente come le persone normali se non prendi la medicina dopo sbraiti così e cosa ci ha fatto vedere la tasca che era un movimento cinese che non so due volte me l'ha fatto vedere avrà fatto un errore nel montaggio ma cosa ne so poi quel alpine al quarzo che c'è un ronda dentro un esois mail e tutto quello che vuoi ma per me un orologio che deve rimanere lì poi ha comprato su un sito che non so qual è non ce l'ha detto magari anche per farci capire dove non andare a comprare potevi dircelo un rado un rado e ha ricevuto una radio ora mi starà prendendo un giro o è veramente così non lo so oppure ha letto maletti era veramente una radio e vabbè comunque bravo mandami altri video su questo tenore che sono molto utili alla community no e magari servono anche a te come valvola di sfogo per la pressione che c'è qua nella scatola cranica no devi sfogare devi sfogare ti comprendiamo prossimo video ciao davide sono alessio ho 27 anni e ti seguo dalla provincia di monza e brianza ti faccio vedere la mia umile collezione umile spero ti possa piacere certo partendo subito dal dall'orologio che mi ha fatto appassionare a questo mondo interstellar vero questo emilton caccavation pilot dei date se è un un pilot appunto con cassa da 42 mm e io mi sono innamorato di questo orologio guardando il film interstellar dove c'era anche l'altro emilton il morf ma io ho preferito questo e mi è stato regalato dai miei genitori come regalo di laurea il film aveva il quadrante nero mentre questo ha un bellissimo quadrante blu che secondo me a blu gli da anche quel tocco in più blu più poi faccio vedere il mio secondo orologio cosa ovvero qui ti so piere x powermatic 80 simpatico che le mette lui e le caratteristiche in alto a destra dello schermo qua a destra poi vengono girate si nato a destra si è scritte lui 40 mm di diametro la referenza il calibro e la resistenza all'ipermeabilità così vi facilita anche la vita voi che state guardando è con il quadrante verde verde ho sempre guardato il prx ma non me ne sono mai innamorato finché non ho trovato questo qua quello con il quadrante verde simpatico perché quelli neri e quello blu comunque mi risultavano un po scontati questo invece è un quadrante che in condizioni di luce normale sembra praticamente nero appena lo colpisce il sole come puoi vedere a questi riflessi verdi che sono bellissimi secondo me cioè non voglio esagerare ma secondo me è uno dei quadranti verdi più belli in commercio poi ti faccio vedere uno degli ultimi arrivi htd carino questo htd aquatic lo skin diver della htd il micro brand italiano yes che dire è un orologio molto molto versatile sta benissimo al polso con i suoi 39 mm di diametro di cassa sicuro e sono davvero contento che htd un micro brand italiano faccia orologi così belli e anche devo dire anche tutto il corredo di scatola e contro scatole eccetera istruzioni è fatto veramente molto molto bene bene tante case potrebbero imparare da loro quindi sono contento di avere questo pezzo nella mia collezione poi ti faccio vedere l'altro orologio estivo che è questo seiko 5 sport con il quadrante orange un orologio devo dire molto molto carino peccato appunto per la corona che non è a vite perché se no sarebbe stato anche un bel diverino però comunque c'è i suoi 100 metri 100 metri basta l'avanzare lo posso usare con discreta tranquillità certo discreta tranquillità poi poi ti faccio vedere l'unico g-shock che ho in collezione e ma anche no che è questo qua il g-shock in acciaio devo dire che ho sempre voluto un g-shock questo qua è l'unico che rispecchiava un po' tutte le caratteristiche che cercavo adesso è il mio muletto diciamo quindi come vedi c'è un po' di graffi però lo uso volentieri la visibilità non è il suo forte però comunque c'ha vabbè le lucine classiche del g-shock quindi si vede benissimo meno male l'ho trovato a un buon prezzo quindi ho deciso di prenderlo io come muletto un orologio così non lo vorrei no parlo per me muletto poi cosa vuol dire muletto cioè come orologio da tutti i giorni da indossare senza preoccupazioni diventa quello diventa l'everyday watch non è il muletto vabbè ma in ogni caso io vorrei un orologio meccanico cioè non posso mettermi un orologio che non mi piace al quarto digitale che si legge male solamente perché lo reputo orologio muletto no me ne scelgo anzi uno automatico meccanico che possa essere il citizen pro master o il mako il mako 2 il kamasu quello che volete voi un orologio giapponese può essere vagari però automatico da pochi soldi indosso quello almeno un po di piacere lo provo con uno g-shock io non ci riuscirei mai cioè vado un giro con quello lì perché tanto se si rovina non mi interessa si se si rovina non mi interessa ma se lo guardo non mi interessa se penso a cosa su al polso non mi interessa cioè non sto bene con non sto bene con quell'orologio lì capito sono contento che voi ci riuscite però sappiate che state togliendo spazio sul polso o qualcos'altro di più interessante che dà più gioia nell'essere indossato adesso passiamo al pezzo forte se così si può dire della mia collezione ovvero questo seiko baby marine master con funzione gmt una limited edition save the ocean limitata a 1500 pezzi e che dire questo orologio qua secondo curioso è alle 11 e 10 sta cambiando data tra 11 e 12 lì curioso i calibri da seiko hanno il loro si prendono il loro tempo per per cambiare da un'oretta quando c'è un'oretta un'oretta qualcosa cambiamo data piano piano ma è veramente fatto bene finiture superbe anche il bracciale che è un po criticato comunque da tutti io lo trovo ben fatto forse la clasp si la clasp poteva diciamo avere qualcosa in più però nel complesso un orologio che trovo veramente veramente bello l'ho trovato anche un prezzo decente non al prezzo di listino quindi perché no perché no adesso passiamo ai vintage vai e ti faccio vedere subito un pezzo che amerai ovvero questo long in conquest in oro 18 carati bello un orologio che mi è stato dato da da mia zia ne era appartenente a un mio zio che purtroppo non c'è più questo orologio qua oltre a legamo effettivo allora il conquest se del 55 presumo tu abbia controllato i numeri seriali sul calibro sono quelli che vanno guardati il conquest del 55 e significa che è veramente uno dei primi del primo anno di quella famiglia lì perché l'hanno introdotta nel 1954 proprio è stata la prima famiglia adesso il primo nome di orologio che ha dato l'ongine il conquest nel 54 quindi prima del conquest non esistevano scritte sul quadrante venivano chiamati per referenza oppure proprio così come oggetti quindi questo qua del 55 ci sta anche che sia stato prodotto nel 54 no se il numero di seriale sul calibro vuol dire che è prodotto quell'anno lì quindi 55 potrebbe essere stato venduto invece nel 56 è il contrario però si tratta sempre di uno dei primi modelli del conquest mi sembra anche tutto a posticino qua non riesco a vedere cose stranissime la corona mi sembrava che avesse un colore differente rispetto al colore oro della cassa però boh non lo so eh lo trovo comunque un orologio dal fascino insuperabile come il tonno funziona benissimo come come lo prendi in mano parte senza neanche dovelo caricare e che dire niente un orologio che mi fa piacere avere in collezione non uso spessissimo però a volte pranzi di famiglia cena eccetera lo uso quella corona lì da sempre le sue soddisfazioni al polso va bene va bene poi ti faccio vedere l'altro vintage che ho che è questo omega bello acquistato all'asta su katawiki bello katawiki è un orologio che secondo me ha il suo perché da avere in collezione vintage è sempre pur sempre un omega sto cercando anche il seamaster degli stessi anni in buone condizioni lo vorrei trovare vediamo se lo riesco a questo orologio ecco sembra su poi ti faccio vedere cosa un orologio di mio padre anche questo qua lo possiamo definire neo vintage un braille è il braille manta che in questo caso monta un cinturino aftermarket è un orologio che trovo piacevole anche se ormai c'ha i suoi anni un po un po di disegni del tempo però mi piace indossarlo comunque ma fai bene di svariata occasione ecco lo trovo anche abbastanza versatile e poi ha un design molto personale molto particolare anni 90 ma è qua su perché no non ha non farne un buon uso ecco e infine ti faccio vedere una chicca cosa cosa il miglior ciofeca alert del canale ed è un orologio eccolo qua l'unico cronografo alfa romeo no scherzo c'è anche il il manta comunque questo orologio dell'alfa romeo che ho preso al museo dell'alfa io sono un appassionato di alfa romeo e questo orologio comunque lo trovavo molto carino rispecchia un po l'heritage del marchio poi ovviamente è un ciofeca alert sì però comunque lo trovo simpatico c'è anche un movimento mecca quarts mecca quarts ok anche fatto bene in alcuni dettagli se guardi quella clasp c'ha il quadrifoglio simbolo dei modelli sportivi dell'alfa sei con mecca quarts e niente con questo concludo va bene spero ti sia piaciuta la mia collezione e spero che pubblicherai questo video se lo pubblichiamo saluto a tutti e tutti i tuoi follower un saluto a te e complimenti per il carico grazie ciao 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 no no non gli ho dato il ciofeca alert ma è una ciofeca cioè alfa romeo che da in gestione il marchio a qualcuno che gli dice costruiscimi degli orologi fatti così economici con questo con il mio marchio sopra poi li vendo come gadget e funziona così però trovo ora cioè va bene poi dentro che sia un orologio anche fatto benino che c'è dentro c'è il mecca quarts probabilmente seico ci sta anche non è nemmeno niente di male ma è proprio cioè come come un giocattolo anche sto con giocattolo da tenere come gadget per assurdo si potrebbe anche fare collezione di questi di queste stupidate qua l'orologio della alfa romeo l'orologio della fiat ci sono se voi scrivete orologio fiat orologio ducati orologio ci sono perché ognuno che ha un brand famoso e ci guadagna a metterlo a disposizione di chi costruisce e vende degli oggetti che siano felpe orologi bracciali o penne o accendini accendino della della alfa romeo il percentuale va a chi c'è al brand no quindi uno potrebbe anche per assurdo fare la collezione di gadget di orologi delle marche di alfa romeo fiat citroen e così via no però per un appassionato di orologi non è da prendere in considerazione secondo me tale si fatto oggetto poi detto questo poi per il resto tutti i begli orologini bello quel conquest lì della longine bello quello mega che però non riuscivo a capire se il bracciale era omega però stilisticamente mi sembrava un po troppo stridente nei confronti della testa dell'orologio quindi mi sono tutti dei dubbi che sono miei e rimangono miei non è che ti sto dicendo qualcosa potrebbe essere perfetto comunque bravo dai a parte poi il braille lì che non è brutto a vedersi perché ricorda proprio gli anni 90 ma secondo me fra qualche anno rivaluteremo anche quei design lì che ci fanno venire i brividi prossimo video buongiorno davide molto piacere mi chiamo Gianluca sono praticante avvocato di la zona di Monza e Brianza mi fanno comodo gli avvocati volevo condividere con te con gli altri tuoi ammiratori del tuo meraviglioso canale la gioia che provo nell'aver comprato il mio primo orologio sì sarò pazzo ma il mio primo orologio è stato questo perché non perché fossi sia sempre stato appassionato di orologi anzi è una passione nata a novembre il momento in cui avevo visto il rolex daytona di mio padre insomma ho pensato caspita ne voglio anche io uno poi però studiando meglio ho capito che per il tipo di vita che conduco penso proprio che quando anche ne avessi la disponibilità non me lo prenderei ma per un discorso di innanzitutto preoccupazione nell'andare in giro perché purtroppo la nostra zona è brutta brutta nel senso che a Milano se ne sentono di cotti crude ma anche portando questo modello chiaramente mi sento in soggezione e sono ancora più attento di prima ora per il lavoro che fai te l'avvocato ci saranno fior fiori di professionisti di quel settore lì che non vedono l'ora di andare in tribunale o dove svolgono l'attività indossando il loro bel daytona un bel rolex no per far vedere lo status sociale per essere far vedere di essere arrivati a parer mio tra appassionati poi logicamente se l'imputato e il giudice che non capiscono niente di orologi vedono uno con il daytona dicono come è ricco quello lì no ma se c'è qualcuno di appassionato che è la cosa che dovrebbe interessarci più tra di noi che ti vede un orologio particolare al polso e probabilmente ti fa anche i complimenti e lo nota e attacca anche bottone no per esempio come questo tudor qua può essere che insomma è anche un po' somigliante volendo con quella lunetta lì quei pulsanti quelle spallette vabbè oppure qualcos'altro insomma però c'è un mondo oltre quel rolex daytona di tuo padre che poi per amor di cielo se uno lo vuole avere in collezione fa benissimo però c'è un mondo veramente il fatto è che però ho studiato bene qual è la filosofia dietro a tudor e ho capito perché ho preferito questo modello al rolex daytona ecco una cosa importante visto che già saprete sicuramente tutto di questo modello dico che una cosa in particolare che mi è piaciuta è il bracciale che ricorda il jubilee rolex ma non è esattamente il jubilee rolex magari correggetemi sì non è non è un tipo di bracciale fatto apposta per questo tipo di questa linea di prodotto diciamo mi piace molto la scritta tiger perché ricorda molto la scritta daytona sul su rolex cosmograph ma anche perché è dedicata al golfista e soprattutto perché in rosso mi piace perché è rosso sul quadrante bianco vicino al nero un accostamento di colori che mi fa impazzire mi piace tantissimo desideravo mostrarti ecco spero si senta il rumore che fa il l'età va giù 7750 quando si avvia il cronografo è abbastanza duro all'inizio l'avevo visto in un altro video però devo dire che fa il suo lavoro egregiamente assolutamente meraviglioso e che cos'altro dire è un si presta tantissimi utilizzi tant'è che io come praticante avvocato l'ho usato oggi ad esempio per calcolare quante pagine in un'ora riesco a studiare al mio ritmo la risposta è circa 65 perché quando la lancetta dei del cronografo dei secondi del cronografo è arrivato al 65 bloccato avevo appena finito avevo finito la prima pagina quindi ma non funziona così non siamo mica macchine noi esseri umani non è che quel quella pagina in 65 secondi o quello che poi si ripete perché si può rallentare benissimo quindi diciamo a spanne è fatto una misura spannometrica però questo mi va cioè si è caduto proprio proprio nel trappolone si è caduto della passione per gli orologi perché ci si inventa delle situazioni per utilizzare le funzioni le complicazioni di un orologio la ghiera girevole e la bag interna e il cronografo e il gmt cioè cambio no io non viaggio però gmt lo usa perché io voglio sapere che ore sono a shanghai in questo momento quindi lo metto così così sola quando mi rispondono alle email no basta dire alexa alexa che ore sono a shanghai in questo momento a shanghai sono le 23 e 5 23 e 5 brava alexa hai vinto quindi cioè non è che ci vuole tanto no all'ora volevo dire scusami non al minuto allora riesco a studiare 65 pagine 65 vabbè è uguale la prima ora si prestano un sacco di utilizzi devo ringraziarvi per per avermi consentito tramite i vostri video e spiegazioni di capire qual è il modello che mi piace non nostalgia e non invidio affatto chi ha un rolex daytona anzi provo tanta ammirazione ma io non solo è sbagliato dire che mi accontento ma io sono felice così e mi fermo con questo va beh questo è il mio modello sono felicissimo mi piacerebbe sapere che cosa ne pensiate tu e gli altri ammiratori del tuo canale complimenti ancora per la qualità dei tuoi contenuti e sarei davvero felice se gli altri potessero gli altri potessero vedere gli altri dei tuoi ammiratori questo questo modello certo a presto a presto a presto se mi chiedi cosa ne pensano loro lo scriveranno qua sotto cosa ne penso io all'orologio come te sei contentissimo no bene così io non sarei contentissimo a me non piace io non lo vorrei perché perché non intanto non sono un amante del marchio del marchio tudor in sé per sé cioè probabilmente non ne comprerò anche uno in futuro non è detto però trovo sempre qualcosa prima da prendere di interessante prima di scegliere un tudor quindi c'è questo c'è questo un po blocco no tudor è stata realizzata da hans windsorff nel 1926 come secondo marchio di rolex più economico più alla portata di tutti a me già questo me lo mette un pochino come un marchio di serie b poi non è vero però a me mi dà fastidio sta cosa qua poi ci si mettono anche loro a fare orologi che riprendono io sarei sarei contento no allora adesso facciamo un brand un secondo brand un po più economico alla portata di tutti brum e mi sparo avanti dei design che che nessuno ha mai visto completamente differenti da quell'altra parte invece no si rifanno si rifanno all'inizio utilizzavano gli stessi materiali però costavano di meno quindi quando ti mi utilizzi una cassa una corona ro marchiata rolex ci metti un altro movimento non fa un pochino più economico è sicuramente declassato rispetto a quell'altro no si parte già col piede sbagliato e poi hanno continuato con i calibri in house adesso è tutto ma stilisticamente quella lunetta lì e quella del daytona le spallette di protezione sono quelle del daytona i pulsanti sono quelli del daytona insomma c'è tutta un'aura intorno a quell'orologio lì che non me lo fa piacere siccome quel design lì è stra utilizzato no intendo dire quello con i tre quadranti neri panda così del 77 53 ce ne sono una marea di orologi sono gli eberda ci sono degli omega ci sono preferirei andare su un altro marchio ecco con un altro marchio magari di un po differente invece il mio bel cronografo senza avere il tudor questo è il mio parere che non conta niente te sei contentissimo così e devi esserlo perché un bello orologio hai capito e vedrai che tanti appassionati saranno d'accordo con te tanti altri saranno d'accordo con me non c'è la verità assoluta quello che mi ha colpito poi hai detto che ti fermi lì adesso mi fermo qua qua ti fermi lì adesso è solamente incominciata la piccola scimmia che ti è salita qua e sta mangiando la nocciolina quando ha finito la nocciolina la scimmia ne vuole un'altra ne vuole un'altra e te devi sfamarla e per sfamarla devi andare a comprare un altro orologio e insieme ti danno una nocciolina quando ti indossi l'orologio la nocciolina la della scimmia e lei se la mangia quindi sta brava quando ha finito e ne vuole un'altra capito in caso sono due o ammazzi la scimmia e gli animalisti ti incarcerano va bene che sei un avvocato ma verrai incarcerato e sicuramente oppure continui a sfamarla e a spendere i soldi che guadagni e altri in tribunale mi dispiace prossimo video ciao davide sono luigi luigi salerno 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 e ti farò vedere una parte della mia collezione una parte partendo dai miei automatici vai faccio con una mini collezione di mirologi giapponesi partendo rigoloso ordine alfabetico da questo citizen ny0040 pro master classico classico ho comprato col suo cinturino in pelle che c'è in gomma che uso principalmente ovviamente per andare a male però siamo per l'uso civile su questo cinturino militare militare non è un nato è militare alto classico orient camasso questo comprato braccialato ma poi l'ho sostituito con questo cinturino tropic si però questo qua dovrebbe essere quello verde petrolio che in realtà dei riflessi anche blu petrolio secondo me questo qua verde così quasi militare oliva è un po troppo piatto un po troppo pastello per questo quadrante qua secondo me col nero non sbagliavi è si l'etropic secondo me ci sta benissimo diciamo che sono riuscito a beccare il colore del cinturino molto simile a quello della ghiera ma si boh boh se lo dici tu para ponzi ponzi puh poi passiamo al secco secco un questo qui poverso un secco presagio 60 style presagge no non dire presagge io ti posso passare tutto ma non voglio che dici pro esagio ma presagge alla napoletana no oggi recente che riprende un vecchio cronografo seico questo l'ho comprato con cinturino nato ma ho poi trovato un bracciale aftermarket con anche la sua cinghietta cinghietta made in cina made in cina cioè cinghietta made in cina io qua adesso sbrocco proprio cosa vuol dire cinghietta made in cina cioè è un falso sto qua vuol dire che ti hai detto aftermarket ma hai comprato un falso perché nel momento in cui ti compri un bracciale o cinghietta e c'è scritto secco ma non è fatto dalla secco è un falso è comprato un bracciale falso cinghietta niente molto bello molto bello poi cerchiamo con due classici secco cinghietta questione braccialata ci piace argento oh gente centurino sostituito centurino maglie piene diciamo aftermarket centurino piano piano bracciale ci arriviamo piano piano sempre un secco 5 quadrante scuro questo è leggermente più vecchio diciamo la cassa è leggermente diversa si nota che un'altra epoca diciamo e ecco anche questo con centurino centurino e via marcata poi passiamo a un'omage che tu hai recensito un'orologio militare mvc si bellino questo io ho cambiato il centurino perché quello in notazione color k che a me non piaceva tanto ho trovato uno simile in pratica è uguale bene come quello ma di colore verde quindi questi sono quegli omagi no come l'ha chiamato l'amico quadre di salerno che era un certo senso di esistere cioè vanno a replicare quegli orologi della seconda guerra mondiale assegnati assegnati alle forze armate con la freccia quella freccia lì e quella dell'assegnazione sono omagi no nel senso che vanno a riprendere quel avere gli originali sarebbe un po' quelli della sporca dozzina sarebbe costoso difficile e anche rischioso rischioso nel senso di riuscire a trovarli originali con tutte le parti coeve coerenti è un lavoro da collezionisti vero quello lì quello di avere gli orologi della seconda guerra mondiale noi poveri mortali ci possiamo contentare di queste riproduzioni che vanno a rappresentare quegli orologi lì ha senso sì ha senso sempre diciamo passando adesso ai manuali manuale vai uno che dovrebbe avere anche lui il suo spirito militare ma io ci ho messo questo cinturino in perle sta bene bravo che secondo me lo rende anche molto più elegante ma sì khaki field meccanico Hamilton khaki field 39 contatario bravo 38 poi passiamo a dei veloci più vintage vai decisamente più vintage abbiamo questo che è un quadrante non marcato comunque cancellato però all'interno monta un movimento S marcato access che era uno di questi marchi scomparsi dell'epoca d'oro cromata cassa cromata cassa cromata questo via via un altro sempre anni 50 un imperios ce l'aveva anche un imperios belli imperios era un marchietto no era un marchio realizzato da binda da binda che era l'importatore di marchi più importanti e agli insieme ai braille quando proponeva alle concessionari ai negozi i suoi marchi poi gli faceva prendere anche imperios che era il suo marchio economico che avevano creato l'oro io ne ho avuto uno e l'ho anche indossato con piacere l'ho anche fatto sistemare l'ho anche fatto revisionare spesa un po' mi sembrava ho speduto 60 70 euro per farlo sistemare un orologio che valeva vale quella cipra lì però la passione anche quella di fargli mettere le mani per sistemarlo sembra che sia a tuo posto qua ti ero sempre a dove sei fa di viratura ma decisamente molto bello anche questo non te l'ho una s questo invece l'arco anche questo ce l'ho avuto un lanco modello un modello 11 non è il classico deluxe no sarà mica di una versione oversize per l'epoca diciamo 27 mm si assicuri che esisteva un po male ma che non sia stato ristampato ricassato simpatico roccio morti ma morti ma morti ma tua 70 per chi conosce un po la storia della morti ma questa contavano questi calibri non c'è che in realtà vanno di 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 diamanti meno e poi classico ultimo tessu tessu sia star sia star sottilissimo andate novolosa simpatico dai non si vede niente tessu quella 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 ma quella fibia lì così moderna questo è tutto per oggi sono questi orologi che vedremo se mi ricapita avrei questi altri orologi da mostrare al buio ciao 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 complimenti per la regia e per il montaggio che veramente spilberg ti fa una scatolata va bene dai amico mio se ti promuovo con il beneficio del dubbio molti orologi non sono riuscito a capire cosa incassavano cosa avevano insomma non c'è dato tante informazioni ma non ti posso dire niente fammi un po rivedere un attimino così velocemente si e beh il seiko presage l'orient kamasu e sono tutti belli orologi come il citizen pro master citizen pro master orient kamasu e seiko presage e cosa gli vuoi dire uno che c'ha questi orologi niente se appostissimo così potresti anche andare avanti tutta la vita così anche un paio di seiko 5 già giusto mi stavo dimenticando e anche lei milton cacchi e figli no belli orologi belli orologi più tutti quei vinteggini lì con i quali ti diverti un po in qua e un po in là che sono gli acchiappi ai mercatini no non si può anche quando vai al mercatino cioè c'è sempre la scimpietaria che vuole la nocciolina un po più piccola ma la vuole anche lei e quindi quei vinteggini lì servono sfamarla un po meno degli altri ma va bene da se ti promuoviamo anche se l'esposizione lì con cinghietta proprio veramente a me mi lascia un po il tempo che trova ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e spero vi siano piaciuti i videozzi per oggi è data così vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love